da qui non si passa è chiusa su di qua vai e controlla io aspetto qui nasconditi ok sali tutto ok sali mi arrampico e do un'occhiata ti dico se è sicuro d'accordo ok sì per un pelo oh merda ti già ecco perfetto qui è quello ecco 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 Sì. forza è libero perché ci hai messo tanto le solite cose forza dammi una mano dai di qua dobbiamo sbrigarci stai indietro calami giù c'è niente laggiù dammi un secondo adesso vedo bella buc'è niente laggiù sono qui indietro sparò il lucchetto merda soli dammi una mano questo posto è pieno di agenti lo e cutter potrebbero essere nei guai ma dove saranno quei due? che diavolo perché non siete in Francia? siamo qui per salvarvi? da cosa? vi credevamo prigionieri o peggio sì ma perché? beh Talbot ci ha teso in imboscata allo chateau era una trappola pensavamo avessero seguito anche voi ma sì in effetti sono qui già non mi dire quindi è meglio non attirare l'attenzione che vi è successo? sono 24 ore che proviamo a chiamarvi oh sì devo fare una ricarica usi un telefono prepagato? ma i contratti sono una fregatura cosa? il mio è rotto di nuovo? allora ehi lasciamo perdere indovinate cosa abbiamo scoperto ho tutto qui dentro non solo la rete di spie di Elisabetta si estendeva fino a qui ma erano tutti una specie di società segreta e ermetica l'intelligence britannica dell'occulto la scuola della notte il club del fuoco infernale l'ordine dell'alba dorata sono tutti collegati quindi John Dee e Francis Walsingham e Walter Raleigh e persino il tuo caro Drake ne facevano tutti parte ma loro interessava solo il potere il controllo sui nemici con spionaggio inganno paura aspetta aspetta quindi Marlo e i suoi sono lo stesso ordine segreto 400 anni dopo ti prego arrivi al cazzo di dunque sì dobbiamo muoverci subito sì certo ecco guarda quad est superius est sicud quad est inferius com'è in alto così è in basso questa è la chiave di tutto quanto dobbiamo arrivare al punto più alto del castello per questo le scale ben fatta seguendo questi indizi dovremmo trovare le cripte l'entrata deve essere nascosta qui intorno là quella è la torre più alta ok quindi dobbiamo solo attraversare oh merda che cazzo state giù ah che c'è ora per arrivare alla torre dobbiamo affrontarli ottimo non dovevamo entrare e uscire senza farci beccare che cosa non possiamo mollare ora non quando manca così poco capiremo com'è a girarli sono qui dobbiamo solo trovarli aspetta solo che mettano le mani su cutter che ne hai degli altri due no sono morti algo te li ha fatti fuori in francia sono qui fatelo fuori granata wow wow braccatelo giù la testa giù la testa tenete la testa lei per il boschio per il boschio C'è un'entrata alla base della torre. Beh, saliamo fino in cima e diamo un'occhiata. Cancello, perfetto. Charlie, dammi una mano. Ci siete? Sì, chiaro. Ce l'ho. Ok, giù. Dai, seguitemi. Su di qua. Attenzione. Ah! Ah! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie ragazzo Ci hai salvato il culo Porca vacca Grazie a tutti Su di qua, dai Quassù Ehi, copriteci, d'accordo? Sì, ma sbrigatevi ragazzi, ok? Sì, qua siamo troppo esposti Ehi, qui Hai visto? Come è in alto, così è in basso Siamo nel posto giusto Sì, sì, ma il posto giusto per cosa? I crociati avrebbero nascosto l'ingresso della cripta in un luogo ben visibile Ehi, un attimo Sì, guarda Lo stesso simbolo è sulla mappa di Drake Proprio accanto a questo Ma certo, l'orsa minore e la stella polare L'unico punto fisso della volta celeste Quindi se la seguiamo fino al castello? Scommetto che ci porterà all'ingresso nascosto Posso vedere? Sì, sì Ridammelo poi Usa il telescopio Sì, sì, lo uso Se non usi il telescopio, ridammelo La trovo io Adesso lo uso L'ho trovata Vediamo se riusciamo a trovare l'ingresso Dovrebbe essere proprio sotto la stella polare Eccola lì Beh, è proprio nascosta in bella vista Ragazzi Sì, solo un minuto Non può essere così semplice, vero? Nate Occhio! Tutti giù! Scappate! Ah, merda Andiamo ragazzi, sbrigatevi Che diavolo hanno in testa? Stanno distruggendo questo punto Non fermarti! Là! C'è un cavo! Possiamo passare di là! No, non possiamo Finché ci sparano addosso! Arriva! Se continuano così Raderanno al suolo Lo stravaledetto castello Questi tizi non mollano Sì, sì. Forza, dobbiamo andare, ora! Pronti? Si parte! Ok, cessato allarme! Sul cavo! Forza! Forza, Nate, andiamo! Corri! Andiamo, via, via! Dove sono? Ehi, ehi! Quaggiù! Tutto ok? Sì, sì, facciamo il giro e vi raggiungiamo! Attenti! Merda! Ehi, ehi, guarda! Hanno appena scusato il muro! Come facciamo con Saliclo? Possono cavarsela! Guarda, ehi, ehi, guarda! È proprio lì! Dobbiamo controllare! No, non mi sembra una buona S&V, eh? Ottimo! Meglio non farsi scoprire! Restate uniti! Trovateli! Restate uniti! Trovateli! Chi è là? Quasi... Chi è là? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Troppo semplice, lo sapevo. Aspetta, aspetta un attimo. Mille anni fa non poteva essere uno scabuzzino. No, 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 no. Ci sfugge qualcosa. Aspetta, aspetta. Le statue, vedi? Una mano su, una mano giù. Già. Visto? In alto, in basso. Sempre lo stesso concetto ripetuto. In pratica solo un'altra briciola sul sentiero. Beh, sembrerebbe di sì. Fammi guardare ancora. Sì, certo. Grazie. Grazie. È di nuovo quel simbolo? Già, forse stavolta non è in alto, ma è in basso, chissà. Deve essere una parte del castello stesso. Una specie di emblema. Un simbolo. Aspetta. Sì, eccolo. Aha. Come in basso, così è in alto? Già. Ok. Ora guarda col cannocchiale. Cosa vedi? Già. Quelle colonne. Deve essere lì. Bene. Andiamo a dare un'occhiata. Incontreremo Sally e Clu per strada. Sono là! Merda! Ci hanno visti! Forza, Charlie! Non possiamo restarcene qui! Muoviamoci! Oh, merda! Quello da dove arriva? Ehi, è Sally! Granata! Grande, Sally! Rugby! Mamma! летом! Gràcies! No! 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 Tragatelo! 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 Piori il pugno! Attenso! Via! Cecchini! Nella torre! Ce ne sono due, occhio! C'è un'altra torre! Là! Da quella torre arriveremo ai pilastri! Forza! Riuniamoci agli altri! Voi due state bene? Già, siamo ancora tutti interi! Venite, abbiamo scoperto qualcosa! Felice che stiate bene! Altrettanto! Ecco, la parete! L'ingresso della cripta dovrebbe essere qui vicino! Beh, e Lorenz dice niente? No, niente! Qui è dove si è fermato! E quante speranze abbiamo? La porta d'ingresso è contrassegnata da due pilastri! Sì! Ma quali due? E... Un ingresso a cosa? Beh, a un altro reame! Un luogo sacro, un luogo d'iniziazione! Oh, sembra proprio uno spasso! Ehi! Magari è dietro l'angolo! Sì, ok! Sì, ok! No! Dammi la forza! Bene! Ora il diario! Grazie! Non fidarti di Drake! Dov'è Charlie? Chi lo sa! No, no, no! Merda! Sparito! Come diavolo! Charlie, tutto bene? Charlie? Che accidenti! Guardate! Che razza di diavoleria da agenti segreti è questa? Speriamo che la dose non sia pesante! No, 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 no! Oh, merda! Calma, guardami! Charlie! Sono qui! Dobbiamo andarci! Non toccarmi! Stammi lontano! Nessuno ti tocca, Charlie! Che cazzo c'era in quel tardo? Le facce si sciolgono! Qualunque cosa fosse sballato forte! Charlie, senti! Ehi, è tutto ok? Lascia via! Non mi portate via! Ehi, nessuno vuole portarti via! Ehi! Seguici e basta! Ok? Già! Oh no! Il pavimento si squaglia! Oh no! Oh no!